Il comune di Corinaldo si costituirà parte civile nel processo che si terrà sui tragici avvenimenti della discoteca Lanterna Azzurra dove lo scorso 7 dicembre hanno perso la vita cinque minorenni ed una madre 39 anni. Noi siamo parte lese in questa vicenda assurda dice il giovane sindaco di Corinaldo Matteo Principi nella conferenza stampa odierna che si è tenuta nella sala di rappresentanza della residenza municipale indetta per annunciare non solo quest'azione che l'amministrazione intende intraprendere per il raggiungimento pieno della verità su quello che è accaduto e sulle responsabilità da attribuire ma anche per tutelare l'intera comunità ferita e sconvolta per quello che è accaduto ed anche ingiustamente travolta, continua il primo cittadino, da sommari ed inutili processi mediatici alla ricerca affannosa a tutti i costi di un capro espiatorio prima ancora che gli investigatori facciano il loro compito. E quindi questo secondo me è una cosa estremamente negativa che forse è anche questo il frutto di un disagio della nostra comunità e un po' di cattiveria da parte di quella cattiveria che a tutti i costi vuole scaricare responsabilità da un soggetto all'altro senza prima guardarsi dentro. Ma questa non è la sola azione che l'amministrazione intende intraprendere a riguardo di questa dolorosa pagina. La prima in assoluto è la ricerca della verità e su cosa è realmente accaduto quella sera e su tutti gli aspetti che ne hanno contribuito. Il comune si schiera al fianco e con chi fa di questo obiettivo una questione vitale mettendo in campo tutto il possibile aprendo anche con un confronto interno e con le famiglie non solo delle vittime ma di quanti quella sera hanno sfiorato l'irreparabile mettendo a disposizione della magistratura anche tutta la documentazione possibile nell'ottica della massima trasparenza. Qualsiasi cosa ci viene chiesto la mettiamo a disposizione. In questo caso l'arma dei carabinieri ha prelevato quelli che sono i nostri atti documenti appunto per le indagini. Sono gli atti amministrativi che abbiamo normalmente nei nostri archivi. Inoltre un sostegno concreto alle vittime attraverso l'apertura di un conto corrente bancario dedicato alla raccolta fondi per aiutare anche economicamente quanti sono stati colpiti con l'impegno da parte del comune di promuovere attivamente la raccolta. Nei prossimi giorni inoltre sarà indetto un consiglio comunale monotematico aperto a tutta la cittadinanza per confrontarsi, discutere ed analizzare nell'ottica anche questa della massima disponibilità su quanto è accaduto nella notte del 7 dicembre scorso.